Salve a tutti ragazzi sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video sul nuovo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons Ebbene sì l'aggiornamento è già uscito da un bel po' di tempo ma giocandolo di volta in volta stiamo continuando a scoprire un sacco di novità E oggi ci troviamo qui a parlare perché c'è un nuovissimo evento che si sta verificando proprio in questi giorni sulle nostre isole Andiamo a vedere di che cosa si tratta Iniziamo Eccoci qui ragazzi allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni Ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale E date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo E già esattamente questo è il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco dei lupi di Elfio Anche se voi iscritti normali siete comunque già dei lupetti Altra cosa ragazzi non dimenticate di schiacciare la campanella che vi mando una notifica ogni volta che c'è un nuovo video E di dare uno sguardo giù in descrizione perché oltre alla descrizione vi lascio sempre il link al mio canale sul sito Viola E il link al mio store dove se volete potete acquistare il merchandise col mio logo Dunque ragazzi velocissimamente il nuovo evento che si sta verificando proprio in questi giorni sulla nostra isola Si chiama Nook Friday E prende chiaramente ispirazione a quello che sta succedendo anche nella vita reale ovvero il periodo del Black Friday Possiamo subito notare che c'è qualcosa di diverso alla bottega di Nook Che espone sulle sue vetrine dei cartelli che ci dicono che sono in corso dei saldi Nello specifico poi entrando all'interno del negozio ci viene spiegato che a partire dal quarto venerdì del mese di novembre Ovvero a partire da ieri venerdì 26 novembre Il negozio farà degli importantissimi sconti fino al 30 di novembre Questo sconto ammonta ben il 30% su tutti gli articoli della bottega di Nook Compresi anche gli strumenti e gli altri oggetti che si possono acquistare all'interno dell'armadietto E non sono esclusi neanche gli oggetti più costosi e gli oggetti stagionali che si possono trovare entrando subito sulla sinistra E comunque a proposito dell'armadietto ragazzi qualche giorno fa c'è stato anche il giorno delle primizie Se come me non siete riusciti a trovare il tempo per partecipare all'evento non preoccupatevi Perché all'interno dell'armadietto troverete tutte le ricette per costruire tutti i mobili del set del giorno delle primizie Il quale era già disponibile l'anno scorso alla stessa maniera per tutti i ritardatari oppure quelli che non sono riusciti in qualche modo a giocare all'evento E in più quest'anno si aggiunge anche il nuovissimo set delle ricette da cucina del giorno delle primizie Che in un lampo vi permette di recuperare tutte le ricette che non siete riusciti ad imparare perché non avete partecipato all'evento Comunque tornando al Nook Friday questo è un evento che ovviamente si ripeterà da quest'anno per tutti gli anni a seguire Ed inoltre si tratta di qualcosa che esisteva anche se in forma diversa anche in passati Animal Crossing Ci sono senz'altro un po' di differenze a partire dal nome perché prima non si chiamava ovviamente Nook Friday ma si chiamava semplicemente giorno dei saldi In quel giorno la bottega di Nook era possibile comprare ad un prezzo modico delle borse dove all'interno si potevano trovare degli oggetti a sorpresa Chissà se questi due eventi sono effettivamente accomunabili oppure prima o poi vedremo arrivare anche il giorno dei saldi su Animal Crossing New Horizons Secondo voi è possibile ragazzi oppure ci dovremo accontentare solamente del Nook Friday? Ed inoltre che cosa ne pensate di questa fantastica trovata di creare il Black Friday anche su Animal Crossing New Horizons? Ed infine mi raccomando fatemi sapere anche se avete partecipato al giorno delle primizie oppure trovate fantastica la cosa di poter acquistare successivamente le ricette alla bottega di Nook Tutto questo ragazzi scrivetemelo assolutamente giù nei commenti voglio sapere tutto quello che ne pensate Io per oggi mi fermo qui vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video sempre qui sul mio canale E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto perché decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui Ed in particolare devo salutare L'Ameri, Oscaronero, Fabio, Naika, Avannotta, Black Bamba, Alice, Christian e Miss G Ragazzi siete davvero grandiosi dei veri lupi Grazie mille per il vostro supporto Ciao Ciao